Non parliamo oggi della bestemmia contro lo Spirito Santo perché l'ho già fatto in altre occasioni e sicuramente avremo ancora l'occasione di parlarne lo dico subito perché so che questo incuriosisce molte persone e altre sono terrorizzate dall'idea di aver commesso questo peccato ma solo per lasciar vivere queste persone ecco libere dall'angoscia vorrei rassicurarvi che quando siamo pentiti Dio ci perdona sempre ed il peccato contro lo Spirito è imperdonabile anche perché chi lo compie è testardo e impenitente nel suo peccato comunque vorrei evidenziare il grande incoraggiamento che ci viene dal Vangelo di oggi Gesù ci fa una promessa bellissima che quando saremo tribolati e nella prova lo Spirito Santo verrà in nostro soccorso si farà sentire ci suggerirà cosa fare cosa dire ci aiuterà a capire quello che ci sta capitando e ci darà la forza per non crollare per la paura non dobbiamo preoccuparci di discolparci di quello che siamo di ciò in cui crediamo lo Spirito Santo sarà con noi e concludo con le ultime parole scritte da Suor Maria in Mozambico prima che un gruppo islamico la uccidesse